Thermaltake vanta nella propria produzione molte innovazioni. In quasi 15 anni di attività ha invaso il mercato mirando a soddisfare gli utenti più esigenti, con prodotti dal look unico ed aggressivo, votati al mondo del gaming. Il case, oggetto della recensione, è il Chaser A41, un mid-tower indirizzato agli hardcore gamers, dal formato compatto e ricco di accessori. Il Chaser A41 rivela la sua indole già dalla scatola, accostando il nero lucido a grafiche vivaci che mettono in bella mostra la particolare estetica del prodotto. La casa produttrice fornisce all'interno della confezione un manuale per...